Addobbati era, mi ricordo, un bellissimo uomo, anche anziano, ma un bell'uomo, insomma, e Franca Dominici, insomma, bastava che aprisse bocca, era una specie di violoncello con questa sua voce scura. Tra l'altro, Franca Dominici, io sono anche amica di sua figlia adesso, che è mancata qualche anno fa, ha voluto regalarmi i suoi bauli del teatro con scritto sì, mi ha fatto un regalo meraviglioso, e la figlia, sono stata anche in imbarazzo di fronte a sua figlia, che è un'attrice anche, però li ho presi con grande gioia, cioè i bauli teatrali di Franca Dominici, che aveva una compagnia teatrale importante, perché poi dopo, logicamente, da anziana ha avuto qualche problema le ossa, le cose, per cui il teatro, insomma, è una cosa molto faticosa, e quindi bisogna che la salute sia imperfetta, e quindi lei ha smesso il teatro, e quindi, però aveva questa voce, le ripeto, che era un violoncello, e lei era una donna buonissima, dolcissima, un po' aristocratica, insomma, una bella signora, con i gioielli, con le cose, così, e quindi mi incuteva un po' di soggezione, le ripeto, anche perché, essendo appena lì per entrare alla CDC, io, questi miti della CDC sono stati per me, e lo sono ancora oggi, e quelli che non ci sono più, mi mancano immensamente, perché sono le persone che hanno inventato il doppiaggio, cioè quello è il doppiaggio, quello che hanno fatto loro, non quello che si fa adesso, magari, a catena di montaggio, capito? Uno degli elementi interessanti del film di Bava è la presenza di un fantasma bambino, la piccola Melissa, interpretata, peraltro, dal piccolo Valerio Valeri, che altri non era, se non il figlio del portinaio del palazzo, dove il regista abitava. No, no, questo non me lo ricordo, forse non lo sapevo neanche, e che poi, insomma, la mia partecipazione fu sei, sette pose, non è che fu, che durasse tantissimo, però, no, questo non me lo ricordo, però comunque allora era normale che si chiamassero le persone, così, dalla strada. Oggi non è tanto normale, non si dovrebbe fare, perché, insomma, gli attori hanno tanto bisogno di lavorare, anche i ragazzi, anche i bambini, anche quelli che vogliono fare gli attori, insomma, devono, bisogna chiamare quelli che vogliono fare gli attori. Le maestranze erano perfettamente adeguate al clima della compagnia, oserei dire, uso un termine teatrale, ma era proprio una compagnia, prima di tutto, perché erano tutti attori professionisti, e questo va ad onore di un grande regista, che ha chiamato degli attori molto bravi e molto importanti, fatta eccezione per me. E quindi, c'era un clima familiare, capito, poi in questa villa, che mi ricordo, un clima, c'erano un po' di fumi, mi ricordo, quando le prime scene, un po' di mistero, però era molto bello, era molto, anche emozionante, devo dire. Io poi amo molto quei gialli e i film anche dell'orrore, quelli belli, però, quelli, non quelli esageratamente trucchi speciali, perché quelli sono solo ridicoli, e basta. Mi ricordo, ecco, che Mario Bava mi diceva sempre, sta attenta, eh, mi raccomando, però, perché questa cosa io me la dovevo fare, e siccome le ripeto, io non ho studiato recitazione, non ho fatto accademie, ancora oggi, quello che devo fare faccio, mi butto e faccio, non è che ho tanto, quindi forse lui temeva che io mi facessi male, e poi all'inizio questa mia professione, mio padre era un medico, e quindi mi ricordo che qualche volta mi ha accompagnato anche lui a fare qualche posa, e quindi forse Bava temeva anche se succedeva qualche guaio con questa spada, c'era una cosa che rientrava, però mi ricordo che c'era qualcuno vicino che mi proteggeva, insomma, nel caso io avessi fatto qualche movimento falso, perché in effetti era un po' pericolosetta, era una cosa molto appuntita, però era morbidissima, appena la toccavi entrava, e quindi mi auguro che sia venuto bene la scena. Poi naturalmente non so quale fosse il mio rendimento professionale, perché, le ripeto, io ho cominciato a lavorare così, e quindi piano piano poi ho studiato, non so se ero brava o no in quel film, perché non so, forse ero carrucetta così, ma forse non ero tanto brava, o avrei potuto essere molto migliore. E com'era la produzione alle spalle del film? Mi sembrava un po', non tanto ricca, povera. No, insomma, era, le ripeto, cinema artigianale, cinema... Sì, mi ricordo, guardi, mi ricordo quando io sono andata poi a incontrare Bava, mi ricordo che stavamo a casa a giocare a tombola con mia madre, alcuni miei amici, amici dei miei fratelli, così. A un certo punto mi ha detto, beh, andiamoci, abbiamo l'appuntamento, ma siamo andati in una casa, così c'era dove c'era questa produzione, c'era lui, ma una cosa molto semplice, non aveva la sensazione di essere poi un film come quello che è diventato, per cui poi oggi siamo qui a ricordarlo, a parlarne, e io che mi considero teatrante, quando mi dicono, hai fatto un film con Mario Bava? Sì, ho fatto... Ah, ma lo sei ma un maestro? Quindi lo ringrazio anche perché mi ha saziato da quel punto di vista, dal punto di vista cinematografico. Pare che, insomma, l'aver lavorato con lui sia un fatto storico e quindi sono molto felice, ecco. Però una cosa semplice, ma d'altra parte è il mio convincimento attuale, odierno. L'arte non ha niente a che vedere col denaro, il talento ha a che vedere con l'arte e quindi tu raggiungi dei livelli artistici quando sei un artista. Cioè, sì, per carità, non ci devono tagliare la cultura, però non c'entra con la bravura questo. I soldi non c'entrano con la bravura. Ecco, la bravura è un dono che poi lo studio, l'applicazione e soprattutto lui forse non era... Mario Bava non era consapevole forse della sua bravura, come tutti i grandi, capisci? Cioè, lavorava umilmente, faceva le sue cose per passione, come le faceva, come le ha fatte Totò, come le hanno fatte le persone grandi, senza stare ad essere supponenti. Questo è un concetto... e soprattutto senza il sostegno della politica. Ci pare poco? Sai, io devo essere onesta. Ci ho messo un po' per... questa cosa, io, questo lavoro, io l'ho fatto perché me lo diceva mia madre. Quindi bisogna un po' mettersi nella testa di una ragazzina che fa una cosa perché piace a sua madre. Io tutto... ci sono tante professioni che io credo avrei scelto e avrei potuto fare con la stessa passione. Però è chiaro che tutti i primi anni io l'ho identificata, questa cosa, con la stima di mia madre, che era immensa. Cioè, ogni cosa, veramente, ogni cosa che io facevo e che andava bene, in quel senso, io per lei, cioè i miei fratelli, ancora oggi ci scherzano, mia sorella, cioè che nel momento in cui io ho cominciato a fare questo lavoro e ci sono riuscita pure, mia madre mi ha visto come un idolo. E quindi per me, questo quindi, per fortuna, fra di noi non ci sono mai state gelosie, cose. Però è stato molto importante questo. Solo una volta diventata adulta, matura, io ho detto sì, lo voglio fare, mi piace, voglio adattarlo a quello che io amo oggi, a quello che io sono. Cioè, l'umanesimo, lo studio dell'umanesimo, il teatro, i classici, la tragedia greca, le cose... quello che... però all'inizio, se io facevo con Mario Bava, o facevo... per me era uguale. Cioè, la cosa importante, vedevo che mia madre mi considerava una grande figlia, ecco. E quindi, sa, sono anche errori magari che i genitori commettono qualche volta. Glielo giuro, io sono abbastanza cruda verso me stessa e quindi io spesso, io sono felicissima di tutto quello che ho fatto perché l'ho fatto senza raccomandazioni e, lo giuro, non voglio fare i soliti discorsi, senza... l'ho fatto così. Tutto, il teatro, tutto fino ad oggi, continuo a farlo così. Quindi, però, se c'è una cosa che mi dispiace, oggi, con la maturità di oggi, non avrei trascurato il cinema. Io mi sono un po' ritirata a riccio quando ho incontrato... ecco, ripeto, non voglio dire, ma andavo a fare un provino con una persona molto famosa, anche che mi diceva... Allora, entravo, vedevo tutti nudi, ma che devo fare? Dico, io devo fare un'audizione con... no, sì, aspetti. Ha detto il signor Tizio, di cui non faccio il nome, che lei lo può fare in slip. Cioè, capisce? Non era per me, non era roba per me. Allora, sono felicissima di tutto quello che ho fatto. Certo, con la maturità di oggi, io mi sarei un pochino di più incaponita per continuare la mia piccola carriera cinematografica, che oggi mi dispiace di non aver fatto. Ho fatto tantissima televisione, tantissimo teatro, il doppiaggio, la radio, tutto, ho fatto tutto, però esperienze all'estero, ho recitato nei teatri di tutta Europa. Però, certo, il cinema non l'ho fatto. La mia grande, adoratissima collega, che è Ottavia Piccolo, in quel periodo ci trovavamo sempre insieme, poi ha fatto tanto cinema ed è un'attrice più importante di me. E questo lo dico e lo riconosco. Perché in Italia, poi, fare il cinema è importante, perché ti danno più credito, capito? E quindi oggi mi piacerebbe di farlo, certo, con persone intelligenti, ecco, con persone intelligenti, che fanno il cinema così come fanno il teatro, capito? Il cinemino naturalistico che rappresenta la realtà, capito? Buongiorno, voglio un caffè, cioè, il cinema in dialetto, a me non me ne frega nulla, mi scusi il termine, non mi interessa, non mi è mai interessato di recitare in romanesco, perché sono romana e quindi non mi interessa tutto questo. Mi interessa, io credo che si riesca a raggiungere l'arte quando si riesce a raggiungere l'astrazione un po'. Quindi credo che il cinema e il teatro siano dei luoghi deputati, dove si deve disegnare una finzione. Oggi, secondo me, non ha nessun senso riprendere la realtà, ecco. E quindi mi piacerebbe fare un bel cinema pensato. Non dico come quello che ha fatto Bergman, perché certo, quello... Però, insomma, ecco, quello è il cinema, metterci la testina, la testolina.